Il mondo è sempre più piccolo, è sempre più stretto e l'industrializzazione dilagante porta a breve, porterà a breve alla fine del mondo stesso e quindi c'è la necessità di rindirizzare nell'ambito di una sostenibilità il tutto e di ripensare tutto quanto. Ripeto che il lavoro di ognuno di noi a qualunque livello esso si sviluppi, dal più umile che umile non è, al più alto che poi tanto alto non è, saranno la chiave della salvezza e quindi noi come istituzioni, metto anche lo IASP fra queste, abbiamo il compito di creare una società, una classe dirigente, una classe dirigente che promuova una rinascita dei valori, del valore del lavoratore e del lavoro, lavoro inteso non più come diritto ma come necessità di trovare la propria via, diciamo anche alla santità, per rivoluzionare il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.